Un 41enne italiano è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Ancona per minaccia pubblico ufficiale. L'episodio, avvenuto a bordo di un treno regionale diretto a Pescara, ha preso il via quando il personale ha notato due passeggeri, un uomo e una donna, saliti sul convoglio alla stazione di Ancona senza biglietto. Il capotreno, nel tentativo di regolarizzare la loro posizione, ha chiesto le generalità della coppia per poter applicare la sanzione prevista dalla normativa ferroviaria e permettere loro di continuare il viaggio verso Pescara. Tuttavia, mentre l'uomo ha fornito le sue generalità, ha rifiutato di fare altrettanto per la donna che lo accompagnava. Nonostante i ripetuti tentativi del capotreno di risolvere pacificamente la questione, spiegando la necessità di identificare entrambi per consentire loro di proseguire il viaggio, la situazione è rapidamente degenerata. L'uomo, visibilmente alterato, si è alzato minacciando il capotreno e costringendola a rifugiarsi in un'altra carrozza. L'escalation di tensione è proseguita con il passeggero che ha iniziato a colpire le porte intercomunicanti con pugni e calci. Di fronte a questa situazione, il capotreno ha contattato immediatamente la sala operativa compartimentale, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e fornendo una descrizione dettagliata di cosa stesse accadendo. I due individui infine hanno deciso di scendere alla stazione di Pedaso, dove una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Fermoli ha prontamente intercettati e identificati. Un episodio che riporta il focus dell'attenzione sulla sicurezza a bordo del trasporto ferroviario e sul rispetto del personale incaricato.